Violenza domestica e abusi familiari, emergenza sociale e risposta istituzionale. Questo è il titolo e anche il tema del convegno che si terrà qui all'hotel Charlie di Pesaro organizzato dall'AIAF, l'associazione italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori a vent'anni dalla loro Costituzione assieme all'Ordine degli Avvocati di Pesaro in occasione di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che vedrà la partecipazione di tantissime istituzioni del mondo, del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati. Dobbiamo assolutamente costituire una rete sempre più forte che ci consenta di contrastare questa violenza che invece purtroppo, nonostante l'auspicio, la speranza che anche la normativa è entrata in vigore, c'è stato il Codice Rosso, ci sono state riforme che si sono succedute proprio per potenziare anche le misure a tutela dei soggetti fragili. Dobbiamo registrare comunque che la violenza c'è a tutt'oggi. Io sono convinta che con un'opera di grande sensibilizzazione si possa, e culturale, perché bisogna agire proprio a livello culturale, dalle scuole con i bambini, bisogna fare una formazione precisa e specifica. È un momento molto delicato, molto importante, perché anche i dati del Ministero dell'Interno collocano la Regione Marche come una delle regioni dove l'accesso delle persone vittime di violenza nei centri antiviolenza è particolarmente elevato in netta ingravescenza. Abbiamo dedicato questo evento alla violenza domestica, agli abusi familiari, proprio collocandolo fra l'emergenza sociale e la risposta istituzionale, perché c'è bisogno, c'è assolutamente bisogno che di questo argomento se ne parli, non soltanto nel mese di novembre, che è il mese dedicato alle vittime di violenza, ma che se ne parli sempre. La risposta istituzionale è fondamentale per aiutare chi subisce violenze o per le vittime di violenza, quindi si deve attivare una rete a tutti i livelli. Abbiamo cercato di portare i magistrati a livello nazionale, regionale e provinciale proprio a parlare e interloquire anche con il Prefetto, perché loro con le forze dell'ordine sono la prima rete di tutela delle vittime di violenza. Il Prefetto, proprio a seguito della legge 168 di novembre 2023, sono state assegnate ulteriori nuove competenze, in una materia in cui prima effettivamente il Prefetto non era presente. Quali sono queste competenze? Il Prefetto, su indicazione delle forze di polizia che acquisiscono una denuncia o una querela da parte della persona offesa, chiedono, in presenza di elementi di pericolo per questa persona, chiedono che il Prefetto disponga una misura di vigilanza. misura di vigilanza che può essere la misura della vigilanza VGR oppure può essere anche una vigilanza dedicata, cioè videocollegata e la vigilanza che consente il passaggio frequente presso il luogo di lavoro, presso la casa della persona offesa. Mentre invece quella dinamica implica proprio una presenza costante della forza di polizia presso questi posti. Attualmente noi abbiamo negli ultimi tre mesi disposto 16 misure di VGR. Io mi sono fatto un'idea sul campo ascoltando decine, forse centinaia di storie andate male di vittime. L'idea che mi offre una chiave di lettura che può essere utile anche agli altri operatori e anche a qualunque cittadino è questa. La famiglia, in quanto comunità, che dovrebbe preservare specialmente i piccoli, i minori, eccetera, e anche le parti meno forti, non è più una cellula che consente di progettare il futuro. Quindi proprio nella famiglia si annidano relazioni che potremmo definire con un tecnicismo disfunzionali dove un po' tutti soffrono. Quando si supera una certa linea rossa interviene la autorità penale, ma secondo me è utile per chiunque, compreso l'operatore giuridico, interrogarsi su questo, cioè andare a ricercare come mai si è cominciato a soffrire, le cose sono andate male e si è arrecato violenza, a volte anche senza un intento malevolo.